Diciamo che il tempo per definire una relazione, per fare un progetto di vita comune va da sei mesi a uno massimo due anni, cioè meno di sei mesi è rischioso fare un progetto, consolidare gli eventi. Allora dopo dieci mesi se ti ha presentato la sua famiglia come fidanzata è un passo importante ma entro due anni devono concretizzarsi dei fatti reali, cioè devono concretizzarsi un progetto di convivenza, di matrimonio, di figli. Poi dipende un po' dall'età ovviamente, se sono due ragazzi di 18 anni hanno tempo ed è normale che una relazione tra 18 anni e 20 anni finisca e ne vada avanti un'altra. Invece se si tratta di persone diciamo dei 25 e 30 anni è normale che in due anni si debba consolidare una relazione. Ovviamente attraverso un matrimonio, attraverso una convivenza, attraverso un figlio fondamentalmente. Se questo non accade dopo due anni tanto vale se tu hai l'esigenza di portare a termine diciamo creare una famiglia e hai un'età compresa tra i 25 e i 30 anni devi chiudere la relazione. Perché è l'unico sistema per far capire a questa persona quelli che sono i tuoi obiettivi. Non chiudere dicendo ti lascio perché non mi piaci ma ti lascio perché non è la stessa mia visione della vita. E potrebbe darsi che chiudendo cambino le situazioni. Però ripeto, 10 mesi è ancora presto. Ovviamente non è che uno si sposa da un momento all'altro però diciamo che un progetto definito consolidato attorno all'anno, all'anno e mezzo massimo con progetto in termini, tempo di sei mesi deve avvenire. Questi più o meno sono i tempi in cui si deve realizzare una relazione. Ripeto, a meno che non si tratti di ragazzi diciottenni, ventenni, insomma allora è normale chiudere la relazione e poi iniziare un'altra perché intanto relazioni che nascono a quell'età lì difficilmente possono andare avanti tutta la vita. Per carità è anche possibile ma è comunque difficile. Qui parlo di persone con un'età compresa tra i 25 e i 30 anni o over 30 anche. Poi se invece sono over 40 o over 50 allora cambia completamente tutto perché a quel punto lì sono persone che hanno già una loro relazione, una loro vita e quindi tutto completamente diverso. Seguimi su Instagram, Massimo Trama Scriciore, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube. Ciao a tutti.